Presentata questa mattina alla Notte dello Scorso Mauriello, evento che si svolgerà dal 28 all'8 novembre nel centro storico di Eboli, ispirato al magico folletto della tradizione popolare. Per l'undicesimo anno consecutivo ad Eboli, Halloween lascia il posto ad una Ogni Santi, dal sapore nostrano all'insegna dell'arte e del gusto, che riscopre la tradizione e supera le influenze modaiole d'oltreoceano. Ad organizzare anche questa edizione 2018 della Notte dello Scorso Mauriello è l'associazione Le Tavole del Borgo, composta dagli storici ristoratori del centro antico, in collaborazione con il comune di Eboli, con il sostegno di Tecno Scuola, ma in sponsor dell'evento, ed il supporto delle case del Borgo Antico, Hospitality Partner. Oltre al concorso nelle scuole ci sarà la festa nella festa dello Scorso Mauriello per i bambini a Salita Ripa, domenica 28 ottobre alle 5, con la partecipazione dei fratelli Ferraiolo e quindi Pulcinella che incontra lo Scorso Mauriello. Tutto dedicato ai bambini e soprattutto ai bambini per riportare in auge la nostra tradizione, la tradizione dello Scorso Mauriello. La cena spettacolo il 31 ottobre e in replica il 1 novembre, con i 5 spettacoli che quest'anno sono veramente belli, che gireranno nei ristoranti delle Tavole del Borgo quella sera. E infine l'appuntamento con il docufilm creato quest'anno dalle Tavole del Borgo, scritto e diretto da Luca Guardabascio, regista ebolitano, giovedì 8 novembre in prima al Cinema Italia. Quindi un cartellone ricchissimo per uno Scorso Mauriello che diventa sempre più importante qui a Eboli. Il docufilm è un viaggio, è un viaggio nella memoria e nell'infanzia. Lo Scorso Mauriello è un personaggio leggendario che vive dentro ognuno di noi e dentro ognuno di noi vive anche questa dimensione del sud, del sud mitico. Come diceva Carlo Levi, in ognuno di noi c'è un sud, in ognuno di noi c'è uno Scorso Mauriello. Quindi andava fatto un documentario sullo Scorso Mauriello. Crediamo fortemente in questo circuito di promozione culturale della città di Eboli. Lo Scorso Mauriello rappresenta forse una delle iniziative più importanti che abbiamo nel comprensore della regione Campania, non solo della città di Eboli ma della provincia di Salerno. Quest'anno abbiamo voluto fortemente affiancarlo, non solo nel farsi da tramite nel concorso nelle scuole, che ha avuto un grande risultato anche quest'anno. Abbiamo coinvolto un nostro benemerito che è Adriano Ferraiolo e poi in modo particolare le due giornate, ma ancora di più la serata dell'otto, che sarà la visione di questo nostro bellissimo documentario sullo Scorso Mauriello, voluto da un nostro regista ebolidano Luca Guardabascio. Quindi crediamo fortemente in questo circuito che è di promozione culturale, storica, tradizionale, delle nostre pietanze tipiche e contemporaneamente sta diventando anche un'occasione di promozione turistica della città di Eboli. Siamo vicini all'associazione Tauro del Borgo perché fa piacere esserci. Quando ci sono giovani imprenditori che lavorano con la benegazione, con l'impegno per dare sviluppo alle loro attività commerciali, fa piacere.